Benvenuti, il mio nome è Lavinia e faccio parte del team di Doxity. Il focus di questa sera per questo evento con Kaplan sarà appunto quello di scrivere una cover letter in inglese. Alla presentazione seguirà ovviamente una sessione di domanda e risposta, quindi qualsiasi domanda o curiosità abbiate in merito. Potete scriverci nel box domande e risposte che vedete in basso oppure tramite chat e vi risponderemo dopo la presentazione. Ovviamente, dato che questo è un evento di Doxity, avete anche la possibilità di richiedere un attestato di partecipazione e per quello tornerò in chat a breve. Nel frattempo, benvenuti nuovamente a tutti e lascerei la parola a Carmela. Grazie mille. Allora, ci sentite? In realtà è Marta che oggi vuole cominciare. Vabbè, sì, come già vedete stiamo condividendo un computer perché l'altro ci ha abbandonato proprio prima della diretta. Allora, io sono Marta Gritatti, Marketing Manager Western Europe per Kaplan International e Carmela è Executive Western Europe. E oggi siamo qui per parlarvi appunto della cover letter, non soltanto perché come manager mi trovo spesso a fare appunto delle assunzioni, quindi ad avere a che fare con cover letter e voglio darvi proprio dei consigli da parte del manager di quello che veramente fa appunto da valore una cover letter. E poi perché Kaplan, per chi non ci conosce, Kaplan è un provider di corsi d'inglese all'estero. Abbiamo proprio dei corsi dedicati alla formazione professionale, oltre che a business English. E quindi spesso ci troviamo a insegnare i nostri studenti che decidono di frequentare un corso all'estero online. Appunto, diamo dei consigli, insegniamo l'inglese proprio legato al mondo del lavoro. In realtà Kaplan non è soltanto inglese, infatti da qualche anno ci occupiamo anche di corsi di francese e tedesco, quindi ci trovate ben 27 destinazioni nel mondo. Oggi, già ve lo dico, se parte qualche parola in inglese, perché Carmela viviamo a Londra, qualche settimana fa abbiamo fatto il webinar sul curriculum, e quindi se ci scappa qualche parola in inglese, Perdonateci, ma è perché viviamo qui a Londra. Allora, vi presento appunto brevemente un po' la struttura del nostro webinar. Nella prima parte vi spiegherò perché è importante scrivere una cover letter. Carmela vi darà qualche dettaglio in più su proprio gli elementi da inserire, appunto come strutturare la cover letter, e poi vi darò qualche consiglio su cosa fare per evitare un po' gli errori che spesso vedo quando ricevo anche io le cover letter da parte dei candidati. Allora, direi di iniziare. Perché è importante la cover letter? Allora, spesso vedo sempre così, vista come una punizione, oddio perché già dovevo scrivere il CV, perché dovevo pure scrivere una cover letter. Allora, è il primo documento che chi si trova a dover guardare il curriculum viene letto, è il vostro biglietto da visita. Quindi, soprattutto negli annunci di lavoro in cui richiesta, mi raccomando, mandatela. Il mio consiglio è, mandate meno CV, ma focalizzateli in quelli che proprio vi interessano e scrivete la cover letter. La cover letter è essenziale se cercate lavoro all'estero, ma sta diventando un documento molto richiesto anche in Italia. Vi consiglio di vederlo proprio come uno strumento che vi permette di farvi conoscere all'azienda, perché è proprio in questo documento che voi potete spiegare il perché volete lavorare con questa azienda. Quindi, se è perché siete affini alla loro cultura, alla loro filosofia, è qui il momento in cui potete spiegarlo. E potete anche dare qualche informazione in più rispetto al vostro curriculum. Quindi, se avete avuto un'esperienza o un successo particolare, potete appunto raccontarlo all'interno della cover letter. Soprattutto, ve lo dico da manager, quando io ricevo una cover letter penso, wow, questa persona è veramente interessata a lavorare con noi. Fa già, dà una sorta, dimostra già la vostra volontà, la vostra iniziativa. E, inoltre, è un modo anche per spiegare se ci sono dei buchi nel vostro curriculum. Ad esempio, se avete fatto un gap PR o visite brezzi del tempo per viaggiare, è appunto il momento in cui potete raccontarlo a chi appunto sta andando a guardare il vostro curriculum. Gli elementi che deve includere la cover letter sono ovviamente vostri dati personali, il nome dei responsabili delle assunzioni, se magari l'avete visto nell'annuncio. Potete anche indicare il titolo appunto dell'annuncio, se c'è un numero di referenza inseritelo e anche su quale sito, ad esempio, avete trovato l'offerta. Mi raccomando, la motivazione, la motivazione del perché vi state candidando è un elemento chiave. Mi raccomando, nella motivazione non dovete scrivere, vorrei lavorare in questa azienda perché credo che questa esperienza possa adicchirmi, ma anzi, spiegate il perché vi piace questa azienda, perché vorreste appunto lavorare lì e anche il valore aggiunto che potete portare all'azienda. Perché anche da manager vi posso dire che se dalla cover letter io vedo motivazione, voglia di crescere, magari posso preferire un candidato che ancora non ha tutte le esperienze che sto ricercando rispetto a uno che ha un curriculum perfetto, ma magari non ha appunto la stessa motivazione, non dimostra lo stesso interesse. E poi appunto bisogna avere una parte conclusiva che Carmela vi spiegherà come fare appunto una conclusione d'effetto, perché un altro elemento chiave della cover letter, a parte appunto raccontare un po' di voi, è creare curiosità nel recruiter o nel manager che appunto sta guardando questo documento, perché ci sono giornate dove magari posso ricevere anche 50 curriculum, candidature, ovviamente il primo screening è della cover letter, se ne dicevo tante sicuramente andrò ad aprire il curriculum della persona che mi ha suscitato quella curiosità, deve quasi il curriculum andare a completare quello che io ho già visto un po' nella cover letter, però mi raccomando deve essere bella concisa, perché appunto quando riceviamo molte candidature è difficile dedicare molto tempo, spesso bisogna fare una, diciamo, scansione del testo molto veloce, siate obiettivi, perché spesso magari siete modesti, sicuri di voi, ma non andate oltre il limite, è una cosa che mi capita molto spesso di vedere, che la cover letter viene rimandata la stessa per tutte le candidature, invece no, dovete personalizzarla, inserire il nome dell'azienda, perché spesso mi capita che viene cambiato solo il nome della posizione, ma poi in realtà il nome dell'azienda è diverso, quindi non fate i copy and colla, quindi veramente, so che magari anche la ricerca del lavoro è difficile, richiede molto tempo, ma ogni giorno dedicatevi a meno candidature fatte bene e per i lavori che veramente volete, piuttosto che mandarne troppe e non personalizzate. Ora lascio la parola a Carmela che vi darà proprio i dettagli, i consigli su come creare la cover letter. Sì, ciao a tutti. Allora, io direi subito che possiamo passare alla struttura della cover letter, però prima di parlare di come strutturare del layout che dovrebbe avere la vostra cover letter, il nostro suggerimento è quello di fermarvi un attimo a studiare e a raccogliere più informazioni possibili. Fermatevi a pensare a voi stessi e quindi le vostre esperienze, le abilità, le competenze, la formazione e a come volete raccontare tutto questo. Come diceva Marta, se sentite un'affinità con i valori dell'azienda, con la visione dell'azienda, questo è il momento di capirlo, e quindi proprio per questo anche fermatevi a studiare l'azienda, perché vi state candidando per quella specifica posizione in quella specifica azienda e cercate di raccogliere più informazioni possibili sull'azienda stessa. Fate quindi delle ricerche sul sito dell'azienda, per esempio nella sezione carriere, molto spesso ci sono tante informazioni che possono ritornarvi utili, oppure su altri, su Google in generale, su molti siti come Glastor, LinkedIn, potete trovare delle informazioni molto utili. E poi, prima di approcciarvi alla scrittura della cover lettera, è fondamentale fare un studio e fermarsi molto ad analizzare la job description, quindi l'anunico di lavoro, perché lì trovate tutte le informazioni fondamentali per poter iniziare a scrivere la cover letter, perché potete individuare, vi consiglio proprio di anche stamparlo o solo evidenziare, tutte quelle parole chiave, le keywords che vedete ripetute spesso e che capite sono correlate al ruolo, possono essere dei software, possono essere dei processi, delle qualifiche, certificazioni specifiche che vengono richieste, non so, social media per esempio, tutte queste informazioni qui, tutte queste keyword dovranno essere poi, una volta che le avete raccolte e vi siete fatto un'idea di quello che realmente l'azienda ci sta cercando, fate un'analisi su Facebook, capite se effettivamente avete queste competenze e inseritele nella cover letter. Questo perché le keywords sono fondamentali e si devono inserire, così come anche su LinkedIn per esempio, perché innanzitutto se è di candidata per un'azienda di grandi dimensioni, molto probabilmente l'azienda utilizzerà dei software che scansionano le cover lettere proprio per velocizzare i processi e quindi avere queste parole chiave, i software riconosceranno queste parole chiave e poi perché crea un contatto ancora più diretto con l'azienda e mostra che avete studiato, che avete studiato bene l'azienda e l'offerta di lavoro e quindi che non avete mandato tante candidature random ma vi siete proprio dedicati a quella candidatura specifica. Sempre prima di iniziare le informazioni che dovreste inserire, appunto sarà l'edere, la prima parte diciamo che dovete compilare e ricordate che soprattutto all'estero ci sono delle informazioni che dovrete inserire, altre che non dovete assolutamente inserire soprattutto per esempio negli Stati Uniti o il Regno Unito. Quindi inserite il nome e il cognome ovviamente, scusateci per l'utilizzo di Mario Rosti, la creatività si è spenta in quel momento. Assolutamente recapito telefonico, l'indirizzo e mail, il vostro indirizzo se è rilevante, perché se vi state per esempio pianificate di trasferirvi in un altro paese, se l'indirizzo non è rilevante per la posizione potete anche non inserirlo, è il link al vostro profilo LinkedIn. Ricordate di mantenere una coerenza tra il CV, la cover letter e LinkedIn. Ci sono appunto, come dicevo, delle informazioni che non dovete assolutamente inserire, soprattutto appunto come dicevo il Regno Unito negli Stati Uniti, ovvero la foto, la data di nascita e il luogo di nascita, oppure anche lo stato civile e la religione. Questi sono dei dati sensibili che mi fanno praticamente già scartare all'inizio, perché in questi paesi ci sono delle regole molto per riguardo questo tipo di informazioni, perché vogliono garantire che un candidato venga selezionato non in base all'aspetto fisico, ad esempio alla data di nascita. Quindi ricordate di evitare queste informazioni se vi candidate in questi paesi. E quindi passate invece al layout, alla struttura. Come diceva Marta, deve essere breve, concisa, ricordate una pagina ma non una pagina piena, non riempitela, è tre paragrafi più o meno. Quindi avremo un paragrafo di apertura, un secondo paragrafo e poi la conclusione. Ora andrò più nel dettaglio, però in generale intanto il paragrafo di apertura sarà la parte in cui aggiungerete appunto le informazioni relative alla posizione per cui vi state candidando. Se conoscete qualcuno in azienda, quindi avete una sorta di una connessione, in questo paragrafo potete inserire questa informazione. E poi una sorta di analisi presente, passate al futuro, adesso spiegherò meglio nella slide successiva. Secondo paragrafo è quello in cui inserirete i risultati connessi, i vostri risultati personali specifici connessi ovviamente al ruolo e qui potete utilizzare gli eventi puntati. E poi c'è invece la parte della conclusione, la chiusura, in cui vorrete mostrarvi di nuovo fiduciosi del fatto che è il vostro, di essere adatti al ruolo per cui vi state candidando e in cui inserirete nuovamente i vostri contatti. Voi direte perché di nuovo? Perché appunto come diceva Marta non si ha tanto tempo e quindi magari se siete arrivati alla fine del, se è arrivato a leggere fino alla fine della conclusione della vostra cover letter, magari vuole contattarvi, ha le informazioni per farlo e proprio dopo avanti a sé. E riguarda invece un attimo anche diciamo l'aspetto della cover letter, il font, i colori, cercate di mantenerne in linea con la personalità, con il settore per cui vi state candidando e con il vostro curriculum, quindi mantenete una coerenza tra CV e cover letter. Ovviamente anche qui la creatività va bene quando ci si candida per un ruolo per cui magari è prevista un certo livello di creatività, altrimenti mantenetevi su qualcosa di molto semplice. Questo è un esempio, non vi preoccupate di prendere appunti perché le slide vi verranno inviate, quindi non vi preoccupate, però appunto era per darvi un'idea di come potrebbe essere strutturata. Ovviamente ci sono tantissimi tool che potete utilizzare per la struttura, per esempio Office vi permette di guidare i vari template per curriculum e cover letter abbinati, quindi questo è un esempio, ma non dovete per forza seguire questo. Andando un po' più nel dettaglio, innanzitutto nell'intestazione, questo è un altro elemento fondamentale, qui è un altro momento in cui è richiesto lo studio e la ricerca, cercate di scoprire il nome della persona che riceverà la cover letter e quindi il recruiter, l'itmanager, provate a fare questo tipo di ricerca anche su LinkedIn, perché è bene rivolgersi a una persona specifica e qualora non dovreste proprio, e qui vi abbiamo dato anche degli esempi appunto per come rivolgervi, qualora non dovreste proprio riuscire a trovare il nome del destinatario, cercate di essere più specifici possibili, quindi di hiring manager per esempio, evitate di usare espressioni troppo, come ad esempio, to whom it may concern, scusate per il mio accento, oppure anche di essere rimata, non evitate queste espressioni. Il paragrafo, diciamo il primo paragrafo, questo è il momento in cui dovete inserire informazioni, innanzitutto il ruolo per cui vi state candidando, dovete avere trovato l'annuncio per esempio, se conoscete qualche azienda, come diciamo, inseritelo in questa parte, e poi è il momento di descrivere brevemente le qualifiche professionali e accademiche che sono rilevanti per il ruolo, ovviamente per cui vi state candidando. Parlavo prima di presente e passato e futuro perché potreste per esempio pensare di spiegare cosa state facendo nel vostro ruolo attuale, dare una breve informazioni sul ruolo precedente a questo, se ovviamente rilevante per la posizione per cui vi state candidando e poi come queste abilità, quello che fate, può apportare valore all'azienda. Abbiamo qui messo in azzurro delle parole chiave solo per farvi notare come abbiamo inserito, noi abbiamo immaginato, scrivendo questi esempi, che qualcuno, una persona voglia candidarsi per la posizione di Digital Marketing Executive a Ann Kaplan e quindi ovviamente questa persona parla della sua passione per le lingue, per gli agi e delle sue competenze legate al Digital Marketing che quindi crea una connessione con il ruolo. Il secondo paragrafo invece è quello in cui è bene inserire, dovreste inserire numeri, risultati e quindi ovviamente sono degli esempi pratici che possono portare ancora più valore alle vostre ragioni, le motivazioni per cui vi ritenete i candidati principali e fondamentali per il vostro ruolo e quindi sicuramente anche qui è un momento in cui è bene inserire le parole chiave. Questo è proprio il momento in cui le dovete proprio inserire tutte ovviamente se reali. Ricordate sempre di non parare. La conclusione, appunto anche qui, riassumate brevemente perché appunto le vostre abilità, la vostra esperienza di rendere il candidato ideale e infatti mostrate anche l'entusiasmo e la fiducia nel fatto che appunto siete il candidato giusto. E come diciamo, inserite nuovamente i vostri contatti e poi le solite frasi di chiusura inglesi, ricordate che per esempio si usa principalmente se conoscete il nome della persona che vi state rivolgendo e se non avete inserito il nome invece utilizzate l'espressione your family oppure kind regard se si usa principalmente in Regno Unito e invece best regard si usa principalmente negli Stati Uniti. Anche quando cercate delle utilizzate delle espressioni fate una ricerca in più per capire qual è l'espressione più indicata in questo paese in cui vi state camminando. Adesso ripasso la parola a Marta. Ecco, ora vi dirò un po' quali sono gli errori da evitare quando appunto mandate la vostra cover lettera, il vostro curriculum. Come diceva Carmela, evitate di inserire i vostri dati sensibili. Un consiglio che vi do proprio in modo spassionato è evitare di usare le parole che sono ormai abusate, che dicono tutto e niente della persona. Ad esempio quando al posto di dire che siete motivati spiegate appunto, come diceva Carmela, analizzate l'azienda, capite il perché vi piacerebbe appunto lavorare con questa azienda e anche una cosa che apprezzo molto quando ricevo le candidature è quando magari notano qualcosa che potrebbe essere migliorata e quindi dire credo appunto che con la mia conoscenza possa anche aiutarvi a migliorare questo aspetto che secondo me potrebbe appunto essere migliorato. Molti utilizzano la parola appunto sono appassionato di questo determinato argomento. Spiegate, non limitatevi appunto a dire che siete appassionati di qualcosa, ma spiegate come il vostro interesse può appunto portare un valore aggiunto all'azienda. Un'altra parola che viene spesso utilizzata o viene spesso detto posso lavorare da solo ma anche in team. Va benissimo, spiegate dove appunto magari avete gestito un progetto da soli, i risultati che avete ottenuto, così come quando avete preso l'iniziativa, avete fatto appunto il gruppo leader di un determinato progetto, un team leader. Poi appunto dinamico, un'altra di quelle parole che spesso leggo e non dice un appunto e niente, se intendete dire che sapete lavorare sotto pressione, di nuovo, non limitatevi a dire sì posso lavorare sotto pressione, ma fate un esempio di quando effettivamente vi siete trovati magari a dover produrre dei materiali con una scadenza a 24 ore o è successo qualcosa e avete dovuto appunto risolvere un problema. Mi raccomando, mettete degli esempi, i fatti contano molto più delle parole e poi in successful, come diceva Carmela nella slide precedente, magari mettete dei numeri o comunque degli esempi di dove avete portato appunto dei risultati importanti, siete soddisfatti. Ricordatevi che la cover letter è il vostro biglietto da visita, è il momento in cui potete dire chi siete. Poi, altra errore da evitare, se l'azienda è americana, mi raccomando, cercate di utilizzare più l'inglese americano, se siete regno unito, usate l'inglese britannico. Non limitatevi assolutamente alla traduzione letterale dall'italiano all'inglese. Vi do un consiglio, non utilizzare Google Translators. Ci sono altri strumenti che funzionano meglio, ma non lo fate perché si capisce. Ci è capitato di gente che voleva dire che aveva fatto un internship e in realtà la traduzione era internata. Quindi, mi raccomando, state attenti. Evitate gli errori grammaticali, ma soprattutto, come dicevo, non fate copia e incolla di una cover letter. Personalizzatela e fate attenzione a qualsiasi dettaglio. È successo qualche giorno fa che hanno scritto pure il mio nome sbagliato. Nulla di male, l'unica cosa è che se ti stai candidando per un ruolo che richiede molta attenzione per i dettagli, sicuramente non è il miglior biglietto da visita a scrivere DR, un altro nome. E poi, un altro consiglio, ad esempio il Regno Unito, spesso viene richiesto il formato PDF, sia per il curriculum che per la cover letter. Solitamente funziona meglio perché può essere visibile da tutti i diversi dispositivi, perché può succedere che magari la formattazione scritta su un laptop normale non funziona sul Mac, quindi il PDF, a meno che ovviamente nell'annuncio di lavoro non viene indicato che bisogna fornire un altro formato. Ovviamente, mi raccomando, cercate magari di chiedere da amici di ricontrollare il testo che avete scritto. Un altro consiglio che usiamo anche in azienda, se avete lavorato tanto il testo, non siete sicuri, chiudete il computer per qualche ora e poi riprendete e riaprite il testo perché magari noterete degli errori che non avete visto. Se la cover letter è in inglese, avete amici, madrelingua, potete chiedere a loro appunto di darvi una mano e poi ovviamente anche frequentare un corso di business English potrebbe aiutarvi. Per esperienza personale, io prima di trasferirmi in Regno Unito ho frequentato un corso di business English e proprio grazie al mio insegnante ho capito come strutturare una cover letter e anche imparare il linguaggio più professionale perché ovviamente l'inglese parlato, cioè in azienda ci sono determinati linguaggi, appreviazioni che appunto puoi imparare durante il corso o comunque se magari vi state preparando anche per un colloquio in inglese e magari non avete la possibilità di partire per un corso di inglese all'estero io vi consiglio magari di fare anche un corso di inglese online, ad esempio da dipendente Kaplan mi è capitato prima di grandi presentazioni di fare una settimana di corso dove il mio insegnante ad esempio mi ha insegnato a presentare i 5 slide in 20 secondi, quindi ad essere concisa, diretta, non far perdere l'attenzione del pubblico, quindi se non potete viaggiare magari un corso online potrebbe essere la soluzione adatta a voi. Per quanto riguarda appunto proprio il linguaggio ovviamente come vi dicevo fate la distinzione tra inglese britannico e inglese americano, non utilizzate i verbi alla forma passiva ma neanche in italiano, parlate appunto con i verbi di azione al presente e soprattutto usate quelli che proprio vi fanno capire, fanno capire il concetto e soprattutto in inglese frasi semplici e concise per questo dico non traducete direttamente dall'italiano all'inglese perché la struttura delle frasi in italiano è completamente diversa e i false friends, quindi le parole che suonano simili, che però poi in inglese hanno un significato completamente diverso, fate attenzione. Qui ovviamente non prendete appunti, questa slide vi verrà mandata, abbiamo raccolto per voi un po' le parole che possono appunto aiutarvi, potreste inserire nella vostra cover letter, quindi se volete possiamo aprire diciamo. Assolutamente, grazie mille Marta e Carmela per la presentazione, sono sicura che è stata insomma di spunto e di aiuto perché no ai partecipanti, abbiamo ricevuto qualche domanda e inviterei chiunque ne abbia altre a scrivercele nel box domande e risposte e procederemo a corrispondere a tutte. Cominciamo quindi, un partecipante ci chiede se non ha esperienza lavorativa, come si deve comportare, quindi deve accennarlo nella cover letter, lo omette? Allora intanto avrà un'esperienza anche a livello accademico, quindi universitario, scolastico, quindi può individuare quelli che sono degli elementi che possono essere utilizzati nella sua esperienza non lavorativa e inserirli nella cover letter. Come non ricordo se io o Marta dicevamo che ad esempio se si è lavorato in team durante l'università, quindi per un corso si è lavorato in progetto, questo può mostrare appunto che si è avuto la capacità di lavorare con altre persone, quindi anche se non è un ambiente professionale, però comunque è un elemento che si può riportare, così come la tesi di laurea, quindi il progetto di tesi che si è svolto, ci possono essere sicuramente degli elementi che si possono in qualche modo ricollegare. Siete appassionati di moda, vi state candidando per un'azienda di moda e la vostra tesi era proprio legata al settore moda, magari un elemento specifico, questo crea una connessione e dimostra che non dite semplicemente ho la passione per la moda, ma dimostrate che avete voluto studiare il settore, quindi avete quell'elemento in più, accademico, quindi che compensa la mancanza di esperienza professionale. E poi anche se avete fatto dei lavoretti, perché no, potete citarli e magari anche far capire come quell'esperienza vi ha portato a capire qual è la professione che volete fare o anche come vi ha aiutato a crescere. Pure io sono una di quelle arrivata a Londra che ha lavorato in un ristorante per sei mesi, ci siamo passati tutti, però devo dire che intanto mi ha fatto capire la strada che il marketing era quello che volevo fare dopo mi sono presa un gap year a 27 anni e poi come effettivamente mi abbia aiutato ad essere molto più aperta con le persone e questo mi ha portato poi ad arrivare dove sono. Quindi se avete esperienze mettetele e spiegate, evidenziate come vi hanno aiutato e come anche questa esperienza possa aiutarvi nel lavoro futuro. Ad esempio Carmela, lei non è passata dal ristorante ma da retail, dal negozio. Quando io e l'altro manager dovevamo scegliere candidati abbiamo pensato questa ragazza che poverina ha lavorato nel centro di Londra da Zara sicuramente può lavorare sotto pressione, quindi non siate timidi ma spiegate appunto, mettete tutto. Grazie mille entrambe per questa risposta esaustiva. Procediamo con la prossima domanda. Ci chiedono che cosa è fondamentale avere una cover letter per un tirocinio? Più o meno questo che dicevamo appunto, l'esperienza accademica, se ci sono stati dei lavori di gruppo, appunto se ci sono fatte delle piccole esperienze e poi di nuovo la motivazione. Se vi state candidando per un'azienda per la quale veramente volete lavorare e spiegate il perché. Trovate sempre dei punti di connessione tra la vostra storia e l'azienda. Grazie mille Marta. Un partecipante ci chiede se la cover letter va inviata nel corpo mail oppure come allegato. Allora ci sono, solitamente negli annunci dovrebbero dire, c'è tipo il form dove potete caricare il documento, quindi mi raccomando fatelo. Se invece è una candidatura spontanea o non viene richiesta altro documento ma c'è il box dove potete aggiungerla, scrivetela lì o appunto nel corpo della mail. Sì, anche perché banalmente invece di aprire due allegati, la persona che ti ritroverà davanti alla mail ha già il testo, sarà breve ovviamente, ma se incuriosisce allora sarà facilissimo aprire il primo e unico allegato che è il curriculum. Quindi sarà un elemento in più che motiva a controllare il sito. Perfetto. Un partecipante ci chiede se è vero che le cover letter spesso non vengono lette da nessuno. No, è il primo documento, soprattutto se viene richiesta durante, nell'annuncio viene richiesta di caricare la cover letter. Io, ma molti manager tendono a lasciare per ultimi i curriculum di chi non l'ha caricata, perché come dicevo per noi è importante, quando viene richiesta è proprio perché vogliamo conoscere il candidato, perché il curriculum ci racconta la storia ma non dice chi sei, anche il modo di scrivere, come scrivi, fa capire molto di una persona. Quindi no, sono il primo documento che viene visto. Poi dipende anche molto dal ruolo per cui vi state candidando. Se le candidate per un'esperienza legata al copywriting a Londra è l'occasione di far vedere che avete una conoscenza della lingua tale da poter essere pronti per quel ruolo. Quindi a maggior ragione verrà presa in considerazione. Testando in tema più o meno, un partecipante ci chiede se una cover letter è opzionale, devo scriverla comunque? Allora, magari, io ti direi di sì, però no, magari qualche riga nel corpo della mail o quando c'è scritto appunto vuoi aggiungere un commento, un file, direi di scriverlo. Di nuovo, a parte che è un esercizio per voi per capire se veramente siete interessati a quel ruolo, perché ci siamo passati anche noi, la ricerca del lavoro è veramente difficile, ma mi rendo conto che è più frustrante quando vengono mandate candidature a mille aziende piuttosto che focalizzarsi su solo quelle. Io vi consiglio di scrivere qualche riga anche se è opzionale, perché dimostra proprio la vostra volontà di voler essere in quell'azienda. E comunque se è opzionale e gli altri non l'hanno inviata, verrete notati, perché poi invece l'avete inviata, quindi vi dà sempre quella marcia in più. Ok, quindi è sicuramente a favore, diciamo. Perfetto, Carmelo ci chiede se non si invia la coverlettere, si viene scartati a prescindere? Si passa diciamo in fondo alla lista. Poi ovviamente dipende dall'azienda, dipende da quante candidature riceve l'azienda, perché ci sono aziende di grandi dimensioni che magari fanno quel tipo di screening e quindi non valutano, oppure appunto li guardano i siti dopo. Quindi è una, dà una marcia in più. Sicuramente richiede tempo, pazienza, impegno e studio, come dicevamo. Però se è fatta bene, comunque dimostra un impegno, quindi quella reale voglia, quello step successivo, e anche la volontà di essere proattivi, di voler fare quel qualcosa in più. Grazie mille entrambe. Un partecipante ci chiede, spesso si dice che le attività extracurriculari ed extralavorative come scautismo, sport a livelli agonistici, eccetera, sono viste favorevolmente. Posso essere quindi menzionate nella cover letter? Potete anche metterlo, sì, se avete appunto esperienza, una passione, avete fatto volontariato, mettetela ad esempio una ragazza che lavorava con noi e aveva messo appunto nella cover letter che si era preso un anno sabatico per girare il mondo. Poi lavoriamo con scuole nel mondo, quindi era, diciamo, un perfetto match tra noi e lei. Grazie mille per la vostra risposta. Nel frattempo Chiara ci chiede se si svolge un lavoro nel quale non si raggiungono risultati quantificabili. Cosa si può inserire nel paragrafo numero due, quindi per descrivere le proprie mansioni? Si può fare appunto una breve descrizione di quello che comporta il ruolo, sempre fare appunto esempi e anche se non ci sono magari numeri, ci sarà qualche progetto, qualche attività di cui si va molto fieri e quindi si metterla. Non devono essere per forza numeri, ma appunto ho un elenco puntato delle ruoli, delle mansioni che state svolgendo, ho un esempio appunto di qualcosa che vi rende molto fieri. Ok, abbiamo una domanda direi molto specifica, ci chiedono quando l'application deve essere fatta tramite un'apposita piattaforma di recruitment, dove è incluso un po' specifico, è preferibile usare il limite massimo dei caratteri oppure mantenersi bravi? Quindi, dovete, come dicevamo, concisi, ma con le giuste motivazioni. Spesso c'è chi, vediamo, vuole riempire tutto il box senza dire praticamente niente. Un po' come i temi a scuola, partite con tutte le informazioni più importanti e che volete far sapere al recruiter e poi se volete aggiungere qualcosa, bene, se no, non è che dovete usare tutti i caratteri. Poi un consiglio che do è parlate, preparate. Quando voi state scrivendo una breve storia, pensate a cosa potrebbe incuriosire voi e vi tiene. Magari avete letto un'intervista di qualcuno di successo che vi ha proprio tenuti incollati a quella pagina di giornale. Usate questi esempi, quindi incuriosite il lettore e usate un po' quello che farebbe incuriosire voi. Perfetto, grazie mille entrambe per la risposta. Vedo che abbiamo ricevuto delle domande in realtà anche in chat, quindi procedo con leggerne un po' anche di là. Betty ci chiede in particolare quanto conta una eventuale esperienza Erasmus o simili nella valutazione di un candidato. Molto, no, è una delle esperienze all'estero, comunque dimostrano la voglia di andare oltre, di voler uscire un po' dalla zona di Comfort. Sicuramente con un'esperienza che può essere di Erasmus, da Peer, avete imparato un'altra lingua, quindi vi siete messi in discussione anche su questo fronte. Quindi questo tipo di... ma un'esperienza all'estero non è mai sprecata, mai, anzi, dà tantissimo valore. Su tutti i punti di vista dimostra che siete aperti appunto a conoscere nuove culture, a mettervi in discussione, a partire da soli, a affrontare il mondo, diciamo, da soli. Tutte queste cose in qualche modo si applicheranno poi al lavoro che farete, vi aiuteranno, vi faranno crescere e quindi sì, sono molto importanti. Io lo do proprio come consiglio personale a tutte le persone con cui parlo, andare all'estero anche per un breve periodo fa crescere tanto a livello personale, quindi poi dà valore anche a livello professionale. Grazie mille, Marta e Carmela, da Erasmus non posso che essere d'accordo con quanto avete appena detto. Allora, Cledi ci fa una domanda piuttosto complessa, in particolare ci chiede da neolaureando, scusate, che sta appena cominciando a inserirsi nella ricerca del lavoro. Ci chiede se sta cercando appunto impiego, però per ora ha come esperienza pratica solo un lavoro part-time in panetteria, deve menzionarla nel curriculum, dato che comunque nella maggior parte dei ruoli viene richiesta già esperienza? Io direi di sì. È ovviamente una risposta molto personale, però io personalmente direi di sì, perché già non pensare che la tua esperienza, anche se tu non la reputi all'altezza del ruolo per cui ti cambi, non abbia valore, perché sta dicendo che tu, mentre studi, sei in grado di fare qualcos'altro, di dedicarti a un'altra cosa, che è il lavoro. Sei indipendente, perché stai lavorando per appunto mantenere i tuoi studi, dice tanto un'esperienza durante gli studi, quindi io personalmente la valuterei in maniera molto positiva. E poi avrei fatto anche dei tirocini, comunque all'università si fa sempre qualcosa, questo è un tirocino breve, di nuovo dei progetti, e a maggior ragione se ci sono degli universitari, lanciatevi in ogni progetto che l'università vi propone. Non voglio dire non siate limiti, perché ovviamente quello è un elemento della personalità, non voglio cambiardelo, però provate a buttarvi in tutto quello che l'università vi offre, se ci sono delle associazioni, dei progetti proposti dagli insegnanti, che vanno oltre il semplice studio della materia, tutte queste cose arricchiscono tantissimo e vi permettono poi di parlare di qualcosa quando vi candidate, perché altrimenti sarete una persona che magari ha dei risultati eccellenti a livello accademico, però solo studiato, che non è poco, attenzione, non è solo, è tanto, però qualsiasi esperienza durante dà quel valore aggiunto, e quando vi laurerete, non avrete quella crisi dell'ora che faccio, ho solo studiato, che ci siamo passati tutti, quindi vi risparmierete questa crisi. Sì, poi ovviamente queste esperienze, se non ne avete ancora professioni, cioè di lavoro nel settore in cui vorreste lavorare, inseritele, poi via via che crescerete, farete più esperienze, ovviamente inserirete nel curriculum e nella cover letter solo le più recenti, e magari quelle più idonee al posto in cui volete lavorare. Chiaro, grazie a entrambi per la risposta. Mattia ci chiede se è pertinente nella cover letter dire di avere competenze nel lavoro di squadra, grazie a esperienze sportive e professionali precedenti, quindi anche se non ottenenti con l'offerta di lavoro. Sì, perché comunque anche quando si pratica uno sport di squadra comunque si è abituati a dover lavorare con altre persone, quindi sì, magari appunto quando puoi dire che puoi lavorare da solo, hai gestito un progetto da solo, ma anche cosa vuol dire lavorare di squadra, perché per tot anni ho fatto parte di... va benissimo. Perfetto, un'altra domanda sempre da Mattia, questa un po' più specifica, ci chiede se in caso di cover letter per un'agenzia europea o per il Parlamento europeo stesso, è utile citare ad esempio normative europee? Oddio, qua andiamo troppo forse... Direi che il consiglio che posso dare è di fare delle ricerche proprio specifiche, perché questa è una domanda molto, molto che va di mirata, quindi sicuramente ci saranno... Più ricerche fai a riguardo, più roba troverai, che può aiutarti in questa... Comunque, sì, trovare un link, una connessione e mostrare che si hanno delle conoscenze, magari se hai studiato diritto, quindi puoi inserire le materie... Ovviamente se non si è esperienza lavorativa, se hai solo esperienza accademica, inserire le materie che hai studiato, gli esami che hai dato, legati a quella posizione lì, può sicuramente aiutare. Però è una domanda forse un po' troppo specifiche. Perfetto, grazie mille per la risposta. Uno spettatore ci chiede se leggere regolarmente riviste scientifiche o inerenti al campo della candidatura può essere un plus. Sicuramente sì, perché significa che conoscete comunque il settore in cui vorreste candidarvi. Magari potete menzionarlo, ma non troppo, perché non siete comunque... Non è che il lavoro è appunto leggere le riviste, però se dite che siete appassionati di un lavoro o magari l'azienda per cui volete candidarvi è stata menzionata lì, potete anche usare questa connessione e dire vorrei lavorare perché ho scoperto che questa azienda si occupa di questo, fa volontariato, non lo so, la filosofia e la mission dell'azienda che avete letto in questo articolo, potete sicuramente menzionarlo. E poi come diceva Marta, un conto è dire I'm passionate, ho la passione per una cosa, un conto è appunto dimostrarlo. Questa cosa lo può dimostrare, ovvero c'è un reale interesse perché leggo costantemente riviste scientifiche al riguardo, quindi dimostra, questo è un elemento che potrebbe dimostrare ancora di più, questa passione che non rimane lì, ma ha degli elementi più concreti. Sì, appunto questa lettura vi ha portato a dire voglio fare questo nella vita e voglio lavorare in questa azienda, sì. Perfetto, Federica ci chiede se in generale all'estero c'è un limite dopo il quale non si è più considerati graduate? Credo intendo neolaureato. Oddio, su questo... Non lo so, ci informeremo e ci scrivi alla mail e ti facciamo sapere. Scrivici a questa mail che trovi in Italia. Mi sembra che in Italia si è laureati per il primo anno della laurea. Io me ne sono andata anni fa. Mi sono laureata anni fa. No, sì, ti invitiamo a scriverci questa domanda nella mail e ci informeremo per te. Oppure puoi anche contattarci su Instagram e in qualche modo ti risponderanno. Sì, ci scrivono in chat che forse per gli stage normalmente è un anno della laurea. Quindi indicativamente diciamo un anno forse. Lo scopriremo. Secondo me mi è un anno della laurea però appunto mi sono laureata tanti anni fa, quasi dieci anni fa. Possibilissimo. Abbiamo un'ultima domanda molto interessante. ci chiedono qualche consiglio per chi voglia candidarsi come tirocinante presso una società di consulenza. Più o meno questi step. Soprattutto se sono anche candidature spontanee. Anche qui spiegare il perché. Magari appunto se non avete alcuna esperienza citare come diceva Carmela le materie o se avete fatto un determinato progetto o qualche esame o qualcosa appunto relativa al mondo della consulenza. Però sì se non richiedono la cover letter questo è uno degli esempi in cui magari nel corpo della mail potete creare una sorta di cover letter e mandare così il curriculum. Poi magari questa sarà una candidatura spontanea però altre aziende di consulenza avranno pubblicato degli annunci di lavoro quindi studiate magari gli altri e capite un po' quello che viene richiesto solitamente per quel ruolo. Quindi magari non è quell'azienda specifica però potete farvi un'idea di cosa viene richiesto in generale e quindi come dicevo prima studiando i vari annunci di lavoro si ha un'idea di quali sono gli elementi diciamo ricorrenti e come si capisce anche meglio come riportarli poi. Poi appunto in questa fase di ricerca e studio si ha la possibilità di riflettere e quindi capire in che modo cosa quella esperienza quella cosa succeda all'università l'anno scorso poi trovi il modo di collegarla alla job description. Grazie mille Marta e Carmela abbiamo un'altra domanda interessante ci chiedono se aver passato un periodo all'estero pur in stato di disoccupazione viene comunque considerato un arricchimento ai fini della cover lettera. potete spiegare che avete trascorso un periodo all'estero e il perché magari avete trascorso il periodo all'estero se era per prendere una pausa o anche come avete investito il tempo lì non per forza dovete avere avuto un'esperienza lavorativa però potete dire come vi ha arricchito come vi ha cambiato cosa vi ha lasciato sicuramente si va va citata se pure per esperienze personali ho lasciato tutto in Italia da 27 anni il mio lavoro a tempo indeterminato proprio per staccare quando mi sono candidata in questa azienda mi hanno investito perché mi sei presa questo gap year cosa hai capito da questo gap year ad esempio avevo capito che l'esperienza personale che avevo fatto mi aveva fatto crescere al tal punto che vedeva in Kaplan il posto dove lavorare perché mi dava la mia piattaforma per spingere tutti a fare questa esperienza perché veramente ti cambia quindi mettetela assolutamente anche se avete fatto volontariato quindi non è un'esperienza lavorativa però comunque assolutamente va inserito nel l'abbiamo detto nel webinar nel passato e lo ripetiamo che queste esperienze di volontariato per esempio vanno inserite sia se ci si candidata l'estero sia nel curriculum e quindi anche si può creare una connessione nella cover letter grazie mille Marta grazie mille Carmela io per il momento non vedo altre domande quindi ne approfitterei per chiedervi se avete altri punti che magari volete toccare e ovviamente invito i partecipanti che abbiano ancora domande a scrivercele nel box domande e risposte ricordo anche a chi volesse ottenere l'attestato di partecipazione rilasciato da Doxity che ho condiviso il link in chat quindi se volete potete cliccarci sopra e ovviamente lascio la parola a Marta e Carmela nel caso vogliano aggiungere altro vi ringraziamo per averci sopportate per questa retta e comunque appunto qui trovate tutti i nostri contatti quindi qualora aveste altre domande o voleste sapere di più sui su Kaplan sui corsi sui corsi online se non riuscite a fare un'esperienza all'estero lì trovate appunto tutte le informazioni e sì quindi per qualsiasi cosa ci trovate e saremo noi a rispondervi quindi siamo sempre noi grazie ancora a entrambe ovviamente ricordo a chi si è connesso con un pelo di ritardo che riceverete una mail con la registrazione dell'evento quindi non vi preoccupate tutte le informazioni saranno a portata di mano e riceverete anche le slide quindi io vi ringrazio per la vostra presenza ringrazio Marta ringrazio Carmela per il tempo che ci hanno dedicato spero di vedere tutti quanti al prossimo evento con Kaplan e nel frattempo auguro una buona serata a tutti grazie mille ciao ciao grazie alla prossima ciao